Lorenzo Cinatti, allora ci si sposta, si va in via Spalanzani, l'auditorium come location per il polifonico nazionale, una situazione un po' diversa del solito. Sì, diciamo ci si sposta temporaneamente e occasionalmente, nel senso che il polifonico non deve perdere il suo rapporto con la città, col centro della città. Diciamo che in questo caso l'occasione è stata ghiota anche per gestire meglio le problematiche del covid, nel senso che voi immaginate mettere dei numeri così grossi dei cori dentro il Petrarca, metà della capienza ce la giocavamo con i cori soltanto. L'auditorium ci permette di ospitare una manifestazione con dei numeri artistici così importanti con una maggiore, come posso dire, leggerezza, tra virgolette. Però ecco, ci si sposta ma si tiene il rapporto con la città e soprattutto, come dicevo in conferenza stampa, questo è anche, il polifonico si presta a essere una cavia per testare l'oggetto auditorium. L'auditorium, come saprete, è un bene che il Comune ha fatto proprio da qualche anno, lo ha dato in gestione, si sta perfezionando la convenzione ora alla fondazione ed è evidente che, a parte rare occasioni, è stato vissuto, è un luogo che è una sala da conferenze, trasformarlo in una sala da concerti ha necessità degli interventi sia di carattere logistico, camerini, bagni per gli artisti, banalmente anche un bar di servizio, se vuole, e ha bisogno di piccoli o grandi interventi sull'acustica. Però tutti quelli che noi portiamo a fare i sopralluoghi, tutti ci dicono, ma questo spazio dove l'avevate nascosto? Lorenzo Donati, direttore artistico, dietro di noi abbiamo il programma del polifonico nazionale, il concorso, torna a essere concorso. Chi parteciperà? Abbiamo cori provenienti da tutta Italia, non abbiamo avuto un numero ampissimo di cori perché ancora tutte le attività sono un po' bloccate perché per preparare un concorso a volte i cori investono circa sei mesi, qualche volta anche più e quindi molti sono stati ancora bloccati in tutta la parte primaverile e estiva per le problematiche legate al Covid, però siamo molto felici di avere cori che arrivano dalla Val d'Aosta, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Sicilia, dal Lazio, dal Veneto, quindi quasi tutta l'Italia è rappresentata. Più abbiamo dei cori ospiti per rappresentare alcune regioni che mancavano all'appello, quindi abbiamo un coro abruzzese, anzi due cori abruzzesi, uno emiliano e due cori toscani a rappresentare le regioni che mancavano un po' all'appello. Come si svolgerà questa tre giorni intensa? Sì, per la prima volta il concorso nazionale si apre a più iniziative perché non c'è soltanto il concorso che si svolgerà domenica 7 all'auditorium ma abbiamo anche un concerto per un festival di canto popolare nazionale che nasce proprio quest'anno in continuità con quello internazionale legato ad agosto al concorso polifonico e quindi venerdì abbiamo questo festival nazionale con quattro cori che porteranno le tradizioni dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna e della Toscana in concerto all'auditorium, poi abbiamo due cori giovanili e la masterclass del maestro Fabio Lombardo in Pieve sabato 6 e poi invece il giorno del concorso, del concorso la mattina, il gran premio e una parte di concerti il pomeriggio con le premiazioni. Internazionale, è un appendice importante del concorso internazionale che si svolge in un altro momento appunto di novembre anziché di agosto. Quest'anno con alcune novità, innanzitutto la location, il concorso si svolgerà presso l'auditorium di via Spallanzani, lì praticamente adiacente al centro affari e convegni, in uno spazio molto bello dedicato proprio anche, si chiama auditorium proprio perché è stato concepito proprio per le esecuzioni musicali e che può contenere poco meno di mille persone. Ovviamente in tempi di non covid questo sarà molto vantaggioso per la possibilità di un pubblico maggiore. Quali saranno le regole per accedere e poi passare al concorso nazionale? Dunque al concorso nazionale si accede direttamente attraverso la domanda, ovviamente i cori fanno domanda e presentano un programma che deve rispettare le regole del bando di concorso. Il bando di concorso prevede diverse categorie, mi pare che siano cinque categorie, in ognuna delle quali il coro concorrente deve presentare almeno tre brani, ognuno diviso corrispondente dei periodi storici nel campo della storia della musica, ovvero primo periodo dal 1400 al 1600, autori del secondo periodo dal 1600 al 1900 e autori moderni e contemporanei dal 1900 in poi. Vincere il concorso nazionale significa accedere a quello internazionale? Accedere di diritto a quello internazionale senza bisogno di preselezioni, quindi è già un esame passato per il concorso internazionale.